Grazie a tutti. Vi invito averti in presenza, nostro ospite, e farti tenere la conferenza nel Teatro Olimpico di Andrea Palladio, dandoti l'opportunità ovviamente di visitare quella che è considerata forse la più bella città italiana del rinascimento e patrimonio dell'UNESCO. Bene, fu proprio nel 1555 che 21 personalità culturali vicentine fondarono l'Accademia Olimpica, richiamandosi alla cultura classica greca. Era un periodo di libero dibattito culturale, nelle lettere e nella scienza nascente che stava per nascere. Pochi anni prima, nel 1543, si era aperto lo sguardo e l'interesse sul macrocosmo e sul microcosmo, rispettivamente con Niccolò Copernico con la teoria eliocentrica e con Andrea Palladio con l'anatomia del corpo umano. La centralità della Chiesa Cattolica era stata messa in discussione da Martini Lutare e da Giovanni Calvino, le cui teorie avevano trovato proprio qui a Vicenza proseliti, i nobili vicentini, poi perseguitati dall'Inquisizione. Vicenza è stata una culla di innovatori, santi, poeti, scrittori, architetti, navigatori, uomini dell'industria. Non è a caso che nel dominio veneto della Repubblica Serenissima di Venezia sia fiorita l'Università di Padova e che poi, e siamo al giorno d'oggi, poi gli didattici delle attuali Università di Padova e Verona si siano insediate a Vicenza. Fra questi il corso di laurea di Economia, i cui docenti sono accademici olimpici. E' un grande onore per noi avere te oggi, anche se a distanza in via telematica, che affronterai il problema e il tema della spesa pensionistica, che è stato oggetto del tuo impegno appassionato e vorrei dire coraggioso di Ministro del Lavoro. Però ti devo dire che pochi giorni fa non ci è scappato il tuo articolo pubblicato per la giornata della donna, in cui hai affermato che per la donna, più spesso che per l'uomo, il potere è esercizio di responsabilità. Una cosa che fa molto, molto meditare. Rivolgo a Roberto un vivo ringraziamento per essere stato promotore di questo importante appuntamento. Saranno due ore veramente belle. Grazie Elsa di essere venuta. Buongiorno a tutti, intanto, e grazie per la numerosa partecipazione. L'Accademia da un po' di tempo sta coinvolgendo nella propria attività anche i giovani della città. E a questo riguardo ci sono già stati vari interventi con gli studenti delle scuole superiori. Oggi, come ha già anticipato il professor Ricciuti, vi è questo primo incontro con gli studenti dell'università. Ne sono particolarmente contento e farò il possibile perché altri ne possano seguire. Sono anche molto contento che per questo primo incontro vi sia un relatore prestigioso, quale la professoressa Ferreri. Forse potrà sembrare strano che l'Accademia partecipi ad un incontro su di un argomento che normalmente non riguarda l'attività di un'Accademia. Normalmente le Accademie sono orientate su temi letterari o scientifici. L'Accademia Olimpica è l'unica Accademia italiana che al suo interno, oltre alle tradizionali classi di lettere, arti e scienza e tecnica, ha anche una specifica classe di diritto, economia e amministrazione. Ecco quindi che l'argomento di oggi ben si inserisce nell'attività della classe. A questo punto io termino e rinnovando i ringraziamenti ridò la parola alla professoressa Fornero. Buongiorno a tutti, grazie. Sono io che ringrazio intanto per l'invito, poi per le parole troppo generose. Spero che non ci sia un'aspettativa troppo alta e farò una cosa. Siccome ho una presentazione che adesso avvierò, ma che è abbastanza lunga, farò in modo di non dire tutto, in modo da essere poi invitata un'altra volta in presenza e da avere ancora delle cose da dire di persona. Perché certo il contatto che si ha, e io mi sono dedicata molto in questi anni, veramente molto in questi anni, a parlare con le persone, a dialogare con le persone. Lo faccio in ambienti prestigiosi come la vostra Accademia e la vostra Università di Verona, ma anche con semplici cittadini. E anzi avrò proprio questo giovedì un incontro con un parroco della vostra regione che mi ha invitata per iniziative di dialogo con la popolazione che lui ha avviato. Perfetto. Io ho cambiato anche un po' il titolo, perché io penso che il momento che viviamo sia un momento un po' di rottura. Abbiamo pensato che forse qualche mese di lockdown potessero sconfiggere il virus, ma ci accorgiamo che in realtà questo non è così e quindi che ci saranno conseguenze di lungo termine. E allora bisogna pensare non soltanto a ritornare al prima e quindi parlare di welfare nel modo in cui ne avremmo parlato prima del Covid, ma bisogna parlarne nel post-Covid. E io credo che il termine che più si adatta oggi e che tra l'altro ci offre una grande occasione oggi è proprio quell'elemento del Next Generation EU che noi abbiamo coniugato, o stiamo coniugando, nel piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo Draghi presenterà entro fine aprile, dove il termine resilienza secondo me potrebbe rappresentare la strada per un nuovo welfare, un modo di intendere il welfare meno restrittivo di quanto non l'abbiamo inteso finora. Allora io parto, siccome penso che il mio pubblico sia soprattutto di studenti, parto da una figura che è famosa in economia e alla quale noi italiani dovremmo essere anche molto attaccati perché è la figura che Franco Modigliani tra l'altro uso nel suo discorso per il conferimento del premio Nobel a Stoccolma a proposito dei suoi studi su quello che è conosciuto come ipotesi del ciclo di vita. Era ovviamente una persona di una certa modestia franco, Modigliani, e quindi quella che magari qualcun altro avrebbe chiamato la teoria del ciclo di vita, lui la chiamò la ipotesi del ciclo di vita. Vado brevemente, immagino che molti studenti questa figura la conoscano. Vediamo sull'asse orizzontale, mettiamola così, la vita di una persona con gli anni che scorrono, dall'inizio sono i vent'anni, si arriva supponiamo ai 65 che è il momento del pensionamento e poi si arriva alla fine. Qui la fine non è lasciata ai calcoli probabilistici, ma è immaginata come un termine certo. Ecco, Franco Modigliani impostò questo studio con una domanda, come sempre le domande che poi portano a intuizioni importanti, sono quelle più semplici. E Franco Modigliani si domandò, ma che cosa fa un individuo nel corso della vita adulta? Normalmente un individuo nel corso della vita adulta lavora. Lavora e quindi ha un reddito che è rappresentato da questa linea superiore della parte del rettangolo in giallo. Ha un reddito, qui è costante, non importa, è una semplificazione, ma va benissimo anche avere un reddito non costante. Però questo signore che è lungimirante sa che non si lavora tutta la vita, ma che arriva un momento in cui le forze non sono più quelle di una volta e quindi ci si ritira. E allora il reddito da lavoro scompare, quindi il reddito da lavoro dura fino a che dura la vita lavorativa e poi scompare. Però la persona sa che consumerà nella sua vita attiva, cioè quando lavora, in cui magari si forma anche una famiglia, ma anche nella vita passiva in cui non c'è più reddito. E allora Franco Morigliani ha detto, beh, qual è il motivo principale per cui la gente risparmia? Il motivo principale è di finanziare con il risparmio della vita attiva, e adesso vi faccio vedere qual è, il consumo della vita da pensionati. Quindi una persona ha questo livello del reddito, segnato sull'asse verticale, questo livello di consumo, anche qui il consumo è costante, potrebbero esserci, ci sono ovviamente molte variabili che possono determinare un consumo crescente, ma non importa, la grandezza di una persona si vede anche nel ridurre e cogliere il problema nella sua essenza, e quindi il fatto che il consumo sia costante non toglie molto alla bontà dell'analisi. Il consumo è costante e prosegue anche nella vita di pensionamento, come è ovvio. E allora la differenza tra questo reddito e questo consumo, ogni anno, la differenza tra questo che è il reddito e questo che è il consumo, costituisce un risparmio. Ma il risparmio, proprio perché diciamo è stato fatto in un certo anno, si accumula. E quindi andiamo su questo lato del triangolo, che vuol dire la ricchezza che l'individuo accumula ogni anno, risparmiando per la sua età anziana. Quando arriva all'età di pensionamento, che qui è definita 65, allora cosa succede? Che questo signore non sta più ricevendo un reddito e sta consumando invece. Allora cosa vuol dire? Che la sua ricchezza scende, scende fino al momento in cui chiude gli occhi e se ne va. E qui tutto è certo, quindi. E questo è la base per lo studio, l'analisi dei comportamenti di risparmio, di consumo delle persone e come si dice, non a caso è stato premiato col Nobel, come si dice si è trattato di un lavoro molto seminale, perché da questo è iniziata un percorso di ricerca che ha portato tantissimi economisti, giovani, meno giovani, a scrivere e ovviamente a complicare il modello iniziale, renderlo più ricco, arricchirlo. Naturalmente lo possiamo guardare dalla parte del singolo, ma lo possiamo anche guardare dalla parte della collettività. Per esempio, allora interviene qualcuno a dire già, ma qui si presuppone che le persone siano lungimiranti e che quindi dicano, ah sì sì, devo risparmiare per la mia età anziana. Ma siccome alcune persone, tante o poche, magari non lo sono, cosa succede? Che lo Stato dice, sai cosa? E beh, intervengo io e ti obbligo a risparmiare. Ti costituisco io un sistema di sicurezza sociale, chiamiamolo, in cui io ti dico che ti prendo ogni anno il 33%, per esempio, la nostra aliquota di contribuzione, del reddito e te lo metto io da parte per farti una ricchezza pensionistica che consumerai quando sarai anziano. Quindi questa cosa qui può essere pensata non come il consumo che deriva dal risparmio volontariamente accumulato, può essere pensato come la rendita, la pensione che ti dà lo Stato perché tu hai versato contributi lungo tutto l'arco della vita. E quindi si può anche interpretare, si può interpretare in vari modi. Io però adesso voglio farvi notare una cosa. In questo schema così rappresentato, proprio perché Modigliani voleva la semplicità del messaggio, non c'è incertezza. Mentre invece noi sappiamo che purtroppo la vita delle persone è pervasa di rischi. I rischi sono molti e diffusi, sono il rischio di nascere in una famiglia povera, di subire povertà scolastica, di esclusione sociale, mancanza di lavoro, di reddito e non sono equamente distribuiti. Alcuni fin dall'inizio della vita sono più esposti di altri e per esempio in genere le donne sono maggiormente esposte ai rischi economici. Al centro delle pensioni noi mettiamo un rischio unico, che è il rischio di longevità, che è un po' paradossale dire rischio di longevità. Tutti immaginiamo che vivere più a lungo sia meglio che morire giovani, ma il rischio di longevità di cui Modigliani si è occupato è quello di non sapere, quando la vita è incerta, non come nel grafico, quanto a lungo vivi. Quindi lui dice, ma già, io posso pensare di vivere molto a lungo e quindi risparmio molto, anche se non ho figli a cui lasciare una ricchezza che magari accumulo pensando di vivere a lungo. Sarei stato più contento, più felice di consumare. Oppure c'è il rischio opposto. Io invece consumo molto e poi mi trovo a vivere senza più mezzi. Ecco, la pensione è esattamente quel prodotto, e infatti non è solo un prodotto finanziario, è un prodotto anche che ha dentro un'assicurazione contro il rischio di longevità, di non sapere quanto lungo vivrai. la pensione ti dà la garanzia, non la garanzia, ti dà la certezza che tu avrai la pensione fino a quando sei in vita. E quindi questo è il rischio su cui si è concentrato non solo il modello di Franco Modigliani, ma il nostro sistema di welfare che ha soprattutto colto come rischi da assicurare, non solo, poi ci sono i rischi di incidenti sul lavoro, ma tanto per farvi vedere una rappresentazione che non è una rappresentazione successiva, non so perché, ecco qua. Questa è sempre un ciclo di vita in cui rispetto a Modigliani, è molto più difficile adesso rappresentarlo graficamente, ma rispetto a Modigliani si considera anche la fase dell'educazione, la fase dell'istruzione. Io non so se voi vedete, volevo togliere un po' questo. Nascondi, vediamo se li ho nascosti. Voi vedete il mio video anche con i partecipanti? No. O vedete? No, ah bene, allora sono solo io. Benissimo, quindi c'è una fase della vita che sono i rischi alla nascita. Poi vi farò vedere come è variata la mortalità infantile, la mortalità neonatale. Quello era un grandissimo rischio un tempo, che grazie essenzialmente, vogliamo dirlo, ai progressi della medicina e alle vaccinazioni, si è ridotto, per fortuna, quasi a zero. Ci sono i rischi della prima infanzia. Parliamo di welfare, ma perché non dovremmo pensare che ai bambini nella prima infanzia che non hanno la fortuna di nascere una famiglia che si prende cura di loro in modo pieno? Noi perché non dovremmo pensare a loro in termini di strutture? Noi pensiamo spesso agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, come a qualcosa che supporta il lavoro delle donne. Verissimo, però c'è anche il bambino e ci può essere l'aiuto a un bambino che magari all'interno della sua famiglia ha molte difficoltà. E poi c'è il rischio dell'abbandono. Molti bambini, molti, per fortuna no, ma insomma alcuni bambini sono abbandonati. Quindi un welfare considera anche questi rischi e disegna interventi là dove i rischi sono più concentrati. Poi possiamo anche estendere e dire che in un paese civile tutti i bambini hanno diritto ad avere servizi, certo, ma se non ci sono risorse per tutti allora gli interventi vanno concentrati là dove il rischio è maggiore o dite il bisogno è maggiore. Poi c'è la vita di lavoro e qui i rischi sono rischi che riguardano oggi particolarmente i giovani di occupazione e di reddito perché l'occupazione è precaria, scarsamente retribuita, c'è un rischio di disoccupazione. Ci sono i rischi nella vita familiare. Per le donne di nuovo il rischio di uno shock, il rischio di un divorzio non era piccola cosa e ancora oggi non è una cosa piccola, tanto più se la donna ha rinunciato al lavoro magari per lavori di cura all'interno della famiglia. Ci sono anche tutti i rischi, prima abbiamo visto il risparmio ogni anno viene accantonato e fa crescere la ricchezza. Però qualche volta ci sono anche i rischi sul risparmio accumulato e cioè vuol dire che puoi avere investito neanche imprudentemente ma avere investito in attività che magari possono comportare delle perdite. Oppure hai avuto bisogno di debito e il debito si è accumulato. Voi sapete che per esempio in questo periodo uno dei rischi sulle persone, famiglie ma anche imprese piccole è di finire nelle mani di chi ti fa prestiti a usura e il rischio dell'usura che non è mai stato pari a zero nonostante la legge è comunque un rischio che nei periodi di difficoltà aumenta. E poi ci sono i rischi dell'età anziana. Ho voluto anche mettere il rischio del pensionamento a età prematura. Perché? Perché la nostra, per esempio, le leggi italiane hanno spesso incoraggiato le persone ad andare in pensione in giovane età. Spesso le hanno incoraggiate. Però cosa vuol dire? Che se poi la vita si allunga tu magari vivi molti più anni e la tua pensione non è basse o povere ma anche perché le persone sono andate in pensione a un'età molto relativamente giovane. Fatemi solo pensare alle baby pensioni. Una delle accuse che mi veniva fatto qualche volta è perché lei non ha cancellato le baby pensione. Perché spesso queste baby pensionati o baby pensionate in molti casi erano donne con 14 anni e 6 mesi di servizio dei quali alcuni in congetto per maternità o per cura queste donne oggi hanno un'età avanzata e magari hanno questo unico reddito e come si fa oggi a togliere qualcosa che è maturato non sarebbe stato costituzionalmente possibile andare a distinguere uno rispetto all'altro è difficilissimo. e poi ci sono i problemi qualche volta degli anziani sono anche l'amministrazione del patrimonio. Parlo della casa. La casa normalmente gli anziani hanno la casa di proprietà. Spesso la casa rappresenta un costo perché ha spese di manutenzione e la pensione bassa spesso non dà la possibilità. Oggi ci sono anche degli strumenti di tipo finanziario assicurativo come quello che si chiama il reverse mortgage cioè il prestito vitalizio che abbiamo introdotto anche noi non molti anni fa però sono prodotti difficili immaginate che un promotore finanziario vada da una persona anziana a offrirgli di fare un prestito ipotecario vitalizio sulla casa è molto molto difficile quindi anche lì ci vuole l'intervento. Ecco quello che io voglio dire è che quando noi parliamo di welfare noi non dobbiamo guardare solo alle pensioni che è stata un po' una delle distorsioni del nostro modo di interpretare il welfare tant'è che come vi faccio vedere adesso noi abbiamo ma prima volevo farvi vedere non so perché non si sposta volevo farvi anche vedere prima di farvi vedere alcune cose sul welfare all'italiana che quelli di cui abbiamo parlato nel grafico che rappresenta il percorso di vita di una persona quelli di cui abbiamo parlato sono rischi che si chiamano microeconomici o anche rischi idiosincratici possono colpire una persona per esempio una persona può morire abbastanza giovane e non colpire un'altra che invece vive molto più a lungo questi rischi sono assicurabili poi ci sono invece i rischi macro quelli sistemici globali anche detti cigni neri una pandemia è un cigno nero è un qualcosa noi speriamo che non si ripresenti più per lunghissimo periodo ma attenzione ecco è molto difficile mentre puoi assicurare una persona contro il rischio di longevità contro il rischio di incidenti sul lavoro puoi fare questi rischi non c'è assicurazione e quindi l'unico modo di fronteggiare questi rischi è la solidarietà e il debito pubblico che vuol dire solidarietà magari un po' forzata imposta alle generazioni giovani e future ecco quello che volevo dire è che attorno ai rischi micro che in qualche misura abbiamo imparato a gestire i rischi macro si sono molto accaniti in questo nuovo secolo perché noi siamo passati da una crisi finanziaria del 2008 2012 che è stata molto pesante e la globalizzazione per noi di nuovo ha voluto dire certo è stata positiva per paesi più poveri ma per noi ha rappresentato un rischio e quindi ci sono questi rischi sistemici che sono molto molto più difficili da trattare con le politiche pubbliche tradizionali allora vediamo quello che vi dicevo ecco chi si prende carico dei rischi nel ciclo di vita qui potremmo fare della storia ma non è il caso allora noi diciamo i rischi come sono fronteggiati prima di tutto dall'individuo col risparmio l'abbiamo visto nel modello di Modigliani e anche la famiglia una volta le donne le quali non avevano indipendenza economica e non era considerato importante anzi non dovevano acquisire indipendenza economica ma dovevano trovare un marito un partito che si prendesse cura di loro quindi la famiglia era un modo gli economisti dicono un mercato informale per la suddivisione del rischio è certo per esempio che se due coniugi lavorano nello stesso settore immaginate un'attività commerciale di questi tempi è chiaro che lì non c'è nessuna diversificazione del rischio quindi i costi dell'evento negativo sono maggiori immaginate invece che uno dei due sia un dipendente pubblico e l'altro invece sia appunto commerciante allora vuol dire che almeno il dipendente pubblico è coperto rispetto al rischio che colpisce di più chi opera nel settore del commercio abbiamo detto quindi individuo famiglia poi ci sono i mercati però i mercati assicurativi voi siete in una regione dove le assicurazioni sono molto importanti ma i mercati assicurativi senza offendere nessun assicuratore sono incompleti per esempio nessun assicuratore assicura il rischio di disoccupazione questo noi sappiamo che non possiamo andare a comprarci una polizza contro il rischio di disoccupazione semplicemente non c'è e non sono sempre efficienti quindi quando ci sono qualche volta hanno quelli che si chiamano caricamenti sui premi un po' elevati e quindi le persone non è che e poi c'è anche che per esempio in Italia da noi l'assicurazione sulla vita nel senso di assicurare per esempio i tuoi familiari in caso di tua morte precoce per ragioni scaramanti che si fa assai poco ecco ci sono paesi che hanno noi abbiamo più la cultura del risparmio e molto meno la cultura delle assicurazioni e poi c'è lo Stato welfare state è una grandissima conquista ma oggi è in una crisi profonda che è dovuta proprio alla sua scarsa capacità di adattamento ai cambiamenti strutturali e alle difficoltà di risposta politica ai cambiamenti demografici sociali la scomparsa del reddito del ceto medio economici minore crescita tutti quelli che abbiamo visti per esempio gli effetti della digitalizzazione sull'occupazione crisi finanziari allora quello che diciamo è che le risposte nazionali o locali scoordinate sono poco efficaci e per esempio in Europa noi sappiamo che vige la sussidiarietà cosa vuol dire che ciascun paese può disegnarsi il welfare che vuole e per questo che io dico che forse in anni passati c'è stata della convergenza nei percorsi di riforma quindi alcuni paesi sono andati più avanti altri sono rimasti un po' più indietro ma il modello di riforma sostanzialmente non è troppo difficile in ogni caso quello che forse con il next generation EU con la sussidiarietà scusate con la resilienza che è parte fondamentale di questo piano forse si riuscirà a superare un pochino la sussidiarietà nelle politiche dei vari paesi europei esattamente per questo allora ancora un'ultima cosa che riguarda se vogliamo un po' di concetto io ho parlato di rischi rischi individuali e rischi aggregati della possibilità di rispondere sul piano individuale familiare sul piano del mercato e sul piano della previdenza pubblica ci sono essenzialmente due modelli uno è chiamato il welfare bismarckiano è nato da Bismarck il quale alla fine dell'ottocento pensò che bisognasse venire incontro a certe domande dei lavoratori che cominciavano a organizzarsi e quindi sostanzialmente inventò un po' le pensioni ma le inventò intanto ponendo l'età pensionabile all'aspettativa di vita quindi l'aspettativa di vita è 60 anni 58 mi pare che fosse e allora si va in pensione a 58 non ovviamente come dire quindi tuteliamo chi vive di più dell'aspettativa di vita della longevità attesa e in ogni caso il metodo era contributivo quindi è una sorta di assicurazione sociale per la quale si pagano contributi e quindi molto basata sul lavoro mentre invece c'è un altro welfare di origine anglosassone che deriva da Lord Beveridge e che ha un'idea sicuramente più ambiziosa molto più redistributiva in cui la correlazione tra i contributi che si versano e le prestazioni è più blanda sino a essere del tutto assente quando si va a formule come per esempio il reddito in cittadinanza scollegato da ogni tipo di contribuzione è chiaramente una forma di welfare redistributivo tassiamo qualcuno per dare a qualcun altro è chiaro che in pratica tutti i sistemi possono essere un po' contributivi cioè bismarchiani e un po' redistributivi vi anticipo che oggi noi abbiamo un sistema che per certe cose in particolare per la pensione è molto più orientato all'assicurazione quindi si pagano secondo il modello di Modigliani ma gestito dallo Stato e reso obbligatorio dallo Stato mentre altri ho citato prima reddito e cittadinanza questo è uno strumento tipicamente redistributivo e quindi non ha senso dire prima devi pagare i contributi per averne diritto si tassa qualcuno o ci si indebita per offrire non è che sia uno meglio dell'altro è che in certi casi ha un senso legare le prestazioni ai contributi in altri molto meno allora vediamo adesso l'Italia non ha una spesa sociale bassa quando si dice l'Italia spende poco per welfare non è vero quello che l'Italia la vedete è qua la terza nella figura questa e quindi viene dopo il Belgio e la Francia la Francia ha una spesa elevata però l'Italia quello che ha e questo lo dicono tutti è che eccola qua spende in proporzione molto sulle pensioni e poco sugli altri capitoli che sono la politica delle famiglie la disoccupazione la disabilità e altre spese che in altri paesi sono invece maggiormente considerate quindi c'è una spesa cioè c'è una distorsione nel welfare all'italiana che deriva dalla dominanza della spesa previdenziale e questa dominanza deriva dalla varietà e dalla scarsa trasparenza dalla commissione dei compiti nel tempo a essere assegnati noi abbiamo detto che il sistema previdenziale è un sistema che copre il rischio di longevità sarai anziano non lavorerai più non sai quanto a lungo vivi come pensionato e quindi la pensione c'è il sistema pubblico se però noi lo usiamo come ammortizzatore sociale cosa vuol dire usarlo come ammortizzatore sociale vuol dire se ci sono dei lavoratori che sono nel nei loro 50 anni beh si dice mandiamoli in pensione e li metti prima in casa integrazione poi in un percorso di mobilità e poi li mandi in pensione giovani e capite che questo compensa però è un costo e anche vorrei dire che se una persona giovane di poco più di 50 anni è una persona che è che dovrebbe considerare il lavoro ancora normale è che se non ci sono le politiche attive la soluzione più facile è mandare in pensione oppure strumento di politica industriale le imprese per molto tempo hanno chiesto prepensionamenti nel caso di difficoltà aziendali e quindi tu anche lì non hai una vera politica industriale che mette in atto strumenti per aiutare le imprese a ristrutturarsi e allora usi i prepensionamenti come strumento assistenziale vi ricordate le polemiche infinite sulle pensioni di invalidità le pensioni di invalidità che è stato un punto eravamo un po' indicati in Europa con un temore di vita che alcuni paesi nordici magari si sognano soprattutto per le condizioni climatiche per le bellezze naturali del nostro paese però una buona parte invalida perché c'era scarso era una forma di assistenza accettata la reversibilità anche la reversibilità è stata molto importante perché è stata e continua a essere ma adesso la reversibilità si paga con i contributi una volta con le pensioni io dico una volta ma erano le regole di una volta che per molte persone sono ancora valide oltre la propria pensione una bella carriera andasse in pensione con una pensione elevata non corrispondente ai propri contributi questa persona poteva morendo lasciare questa bella pensione alla vedola allora nessuno certo le pensioni di reversibilità vanno considerate assolutamente ma non si vede perché una persona ricca non debba pagarsi la propria reversibilità e questa invece debba magari gravare su chi è più povero attraverso tassazioni quindi ne è derivata una visione che io dico in chiave non di assicurazione sociale e di corretta redistribuzione pubblica la corretta redistribuzione pubblica per i nostri studenti che fanno appunto anche diritto è quella che va a favore delle persone svantaggiate non a favore di quelle benestanti e quindi tutto questo ha però creato una cultura dei diritti acquisiti che ha favorito il debito e una selva di privilegi che non è un buon modo di fare welfare il percorso di riforma del nostro welfare quindi si è concentrato sul sistema previdenziale è stato innovativo nel senso che abbiamo introdotto un sistema che si chiama a contribuzione nozionale qui la sigla è quella l'acronimo inglese che si usa sempre ma che non corrisponde al nostro italiano e quindi è il sistema a beneficio il sistema contributo definito contributo definito e capitalizzazione nozionale ve la spiego tra un momento adesso abbiamo fatto un sistema in cui la prestazione per la generalità dei pensionati dipende dai contributi versati ogni euro messo lì conta ai fini della pensione questo è importantissimo mentre una volta l'associazione tra i contributi e le pensioni era blanda e finiva come ho detto prima per favorire i più ricchi questo percorso è stato anche poco condiviso e recepito male dall'opinione pubblica non parlo solo della mia riforma ma anche le precedenti voi sapete che ogni volta le riforme previdenziali creano molto molta opposizione e qualche volta il percorso finisce per essere a stop and go cioè si va avanti per esempio Maroni fece il famoso scalone e poi e dopo il governo Prodi l'ha eliminato e quindi vuol dire fare un passo avanti e un altro indietro a proposito di riforme non condivise con prevalenza di luoghi comuni questa cosa scusate di nuovo qui è scritto in inglese vuol dire non l'ossessione l'erronea convinzione del numero fisso di posti di lavoro poi ve ne parlo un momento ma vuol dire è la logica che sta dietro quota 100 e cioè mandiamo via qualcuno perché altri possano entrare non è una logica corretta in economia la logica corretta è quella che dice ma cosa dobbiamo creare come dobbiamo fare quali regole quali istituzioni dobbiamo approntare perché possano lavorare tutti quelli che sono in età lavorativa perché la disoccupazione non colpisca prevalentemente i giovani o le donne per avere un mercato del lavoro inclusivo e quindi questo percorso è stato un percorso molto lungo allora come finanziamo la previdenza qui ci rivolgiamo di nuovo mi rivolgo agli studenti in particolare ci sono due modi la capitalizzazione è un po' quello che c'era nella figura di Modigliani le persone risparmiano e questo risparmio viene investito in attività finanziarie o reali e quando si va in pensione si vede il patrimonio che è stato accumulato e si comincia la fase discendente del decumulo della ricchezza accumulata questo c'era una volta anche un po' nei sistemi pubblici ma praticamente oggi non c'è più il sistema pubblico oggi è a ripartizione questo sistema di capitalizzazione finanziaria è quello che adottano le compagnie di assicurazione quindi adotta le generali allianz tutte le compagnie di assicurazione adottano questo sistema la ripartizione invece guardate qui cosa succede vediamo nelle figure tra l'altro queste figure sono tratte da un video che abbiamo fatto con Piero Angela diversi anni fa e sono molto belle l'abbiamo fatto per super quark allora qui c'è il giovane che mette i soldini nel porcellino e qui è lo stesso giovane diventato anziano che rompe il porcellino per consumarselo qui invece no questo è stesso mese stesso periodo il giovane arriva mette i suoi contributi in questa cassaforte dell'Inps ok e l'anziano magari suo nonno prende e porta via quindi questa cassa è sempre vuota non ci sono soldi lì dentro non è il porcellino che si riempie no questa qui è sempre vuota anzi in Italia quello che i giovani versano non basta mai a pagare quello che le persone ricevono io ho scritto che questo è un investimento in capitale umano qui ci sono i soldi sono accumulati in attività finanziarie per esempio titoli oppure patrimonio immobiliare equiti azioni quello che volete invece qui non c'è accumulazione ma cosa sta facendo questo giovane che versa i suoi soldi lì sono buttati no perché lui sta investendo nei giovani di domani che quando lui sarà da questa parte possano esserci e pagare la sua pensione ecco il punto allora questo è se lo vogliamo vedere nella sua corretta interpretazione è un investimento in capitale umano che vuol dire un investimento in occupazione e occupazione di qualità e quindi quando i giovani li teniamo fuori stiamo facendo proprio la cosa peggiore perché noi dovremmo invece valorizzare il lavoro e il capitale umano dei giovani perché dal capitale umano discende la loro produttività allora questa ripartizione in effetti configura l'ho detto prima un investimento nel capitale umano e quindi configura un contratto tra generazioni immaginate le persone che oggi nei loro 30 anni che magari non hanno un lavoro speriamo di no oppure nei loro 40 anni e hanno un lavoro e versano contributi e perché lo fanno sapendo che quei soldi non sono messi da parte ma sono utilizzati immediatamente dall'Inps per pagare le pensioni agli anziani di oggi e allora perché lo fa questo giovane di pagare primo perché è un obbligo di legge quindi o emigra oppure se lavora in nero rischia ma non gli conviene in ogni caso e anzi al di là del senso civico di non lavorare in nero c'è il fatto che il giovane si danneggia da solo perché oggi in quel meccanismo nuovo di determinazione delle pensioni ogni euro che lui versa conterà ai fini della sua pensione e lui versa pensando sperando avendo fiducia che quando lui sarà anziano ci saranno altri giovani che pagheranno i contributi perché lavoreranno e questo il contratto tra generazioni ed è per questo che alcuni politici dovrebbero capire che quando si interviene sulle pensioni è a tutte queste mani che bisogna pensare ma anche a quelle di domani perché i giovani di domani non partecipano alle decisioni politiche sui sistemi perché magari non sono neanche nati eppur si troveranno tra vent'anni e trent'anni a dover pagare per promesse che sono state fatte quindi questo aspetto di contratto tra generazioni è essenziale da comprendere allora come facciamo a giudicare la sostenibilità abbiamo detto contratto tra generazioni e come giudichiamo la sostenibilità di questo contratto l'adeguatezza voi sapete che oggi il concetto di sostenibilità è uno dei concetti chiave c'è la sostenibilità ambientale c'è la sostenibilità economica e la sostenibilità finanziaria è un concetto chiave poi c'è l'adeguatezza sono due l'Europa mette tre criteri per valutare i sistemi pensionistici la sostenibilità finanziaria l'adeguatezza che vuol dire quanto è generoso il sistema quanto è adeguato a fornire sicurezza economica alle persone nell'età anziane questo è il punto e poi c'è invece quello della modernità è stato chiamato che per esempio vuol dire pari dignità delle pensioni delle donne rispetto a quelle maschili degli uomini allora per parlare di vi ho detto prima problemi del sistema pensionistico e di sostenibilità dobbiamo intanto capire come è fatto un buon sistema pensionistico allora noi abbiamo parlato buona distribuzione dei rischi i rischi nella vita individuale i rischi tra generazioni nella vita individuale se io sono disoccupata io come faccio ad accumulare allora l'assegno di disoccupazione tu hai menzionato l'ASPI e il premio che io Tarantelli che ho ricevuto l'ASPI lasciatemi dire come inciso nella mia visione le due riforme quella della previdenza e quella del lavoro dovevano essere molto collegate perché ce l'ha insegnato Modigliani il pensionamento è il riflesso di ciò che succede nella vita di lavoro e se la vita di lavoro è povera sfortunata allora lì sì che deve intervenire lo Stato a darti qualcosa che è redistribuzione ma non può essere per tutta una generazione non possiamo avere tutta una generazione di sfortunati altrimenti sbagliamo qualcosa nelle politiche sul lavoro ebbene in ASPI voleva dire assicurazione sociale per l'impiego politiche attive ma anche se sei disoccupato io pago i contributi per te li pago non facendoli pagare all'impresa che tanto non ce l'hai ma tassando le persone vedete i contributi sono una forma di tassa fissa vi ricordate che c'è qualcuno che ha un po' la fissazione delle tasse fisse va bene vuol dire proporzionale se 33% 33% è pagato da uno che ha un reddito di 1.500 e un altro che ha un reddito di 10.000 euro al mese sempre 33 quindi i contributi sono proporzionali e gravano sul reddito da lavoro le imposte sono progressive normalmente e gravano su tutti i redditi anche su quelli da capitale allora se io devo intervenire a favore di qualcuno con un intervento di solidarietà è bene che vada a prendere i soldi non dai contributi ma dalla tassazione generale che per l'appunto è progressiva e quindi la buona distribuzione dei rischi vuol dire non lo dico in particolare per quelli giovani non oggi avere una promessa dei politici di oggi sulla mia pensione tra 40 anni perché di quella promessa oggi faccio abbastanza poco invece io voglio che se io sono disoccupata e però anche attiva cioè cerco lavoro ho i navigator che mi stanno alle calcagna allora se questo succede lo Stato paga i contributi per me sul reddito del mio ultimo lavoro o sul reddito di cittadinanza li paga in modo che io accumulo qualcosa nella mia vita di lavoro e lo stesso vale se io ho una persona disabile da accudire è attraverso il finanziamento dei contributi a valere sulle pensioni che si deve evitare il rischio di un'accumulazione troppo bassa e quindi di una pensione insufficiente non una garanzia pubblica ti daremo la pensione minima comunque vada la tua vita di lavoro no se sei fuori dal lavoro e ti stai attivando noi paghiamo i contributi quindi tu non perdi i contributi durante la vita di lavoro deve avere una buona struttura di incentivi incoraggiare il lavoro regolare adesso vi dico questo voi ricordate le pensioni che si chiamavano pensioni di anzianità che Modigliani tra l'altro definiva un furto a scapito dei lavoratori cos'era una pensione di anzianità formulata nel nostro sistema era qualcosa che diceva se tu hai 36 38 anni di contributi 35 o 40 a seconda del momento vi ricordate le baby pensioni dicevano bastano 14 anni e 6 mesi di partecipazione al mercato del lavoro anche se ne avevi spesi due o tre in congedi di maternità quindi la pensione di anzianità finiva per scoraggiare i lavoratori dal proseguire la continuazione del lavoro cioè adesso non voglio entrare in dettagli che sono ma lì dentro c'era una tassazione sul fatto sul proseguimento del lavoro quindi come se lo Stato ti dicesse guarda se vai in pensione prima io ti do un po' di più ha un senso secondo voi? No e lo dico in particolare agli studenti un buon sistema pensionistico è quello che mira ad avere la più ampia quantità di contributi dal lavoro e dal lavoro regolare e se invece il lavoro noi lo scoraggiamo è come darsi la zappa sui piedi è come se l'IMSI incoraggiasse la spesa perché manda in pensione le persone e non l'entrata perché rinuncia ai contributi una paradossale situazione e dico solo più questo della trasparenza uniformità del sistema è fondamentale quando non c'è trasparenza quando ciascuno cerca di ottenere regole per sé allora vuol dire che quello è il sistema frammentato delle rincorse qualcuno per esempio perché magari è più vicino alla classe politica ottiene una regola di favore e gli altri poi dicono e noi cosa siamo e così cominciano le rincorse e al tempo stesso il sistema non è trasparente e quindi si nascondono facilmente dei privilegi nella legislazione previdenziale vi posso assicurare che la trasparenza fino a quando non abbiamo adottato il nuovo metodo di calcolo contributivo era molto poca il sistema era alquanto opaco ed era come vi ho detto prima il regno delle rincorse e dei diritti acquisiti allora qui ci sono due pagine con un po' di formule ma visto che ho detto che verrò e che siamo già in avanti non le faccio voglio solo mostrare parliamo della sostenibilità della sostenibilità finanziaria che ovviamente ve l'ho spiegato a parole dipende dai contributi che versiamo e quindi incoraggiare il lavoro e quindi il versamento dei contributi e scoraggiare il lavoro nero anche con delle campagne educative è fondamentale si parlava del rischio di longevità che è tipico delle pensioni e vi faccio solo vedere ecco guardate qua questa curva nera più in alto e guardate la mortalità infantile come era alta la mortalità neonatale nel 1901 vedete che la curva adesso è zero è allo zero e per fortuna questi erano sei bambini morti anche più di sei nei primi giorni di vita nel novecento quello è un grande progresso quindi noi l'invecchiamento qualche volta lo definiamo come un grande problema ma in realtà è vivere più a lungo se si sta bene di salute e quindi è chiaro che ci vuole anche la sanità se si sta bene di salute è un dividendo è una fortuna e qui vedete guardate queste curve di sopravvivenza questa era la curva di mortalità la sopravvivenza sempre all'inizio del secolo scorso scendeva molto all'inizio della vita poi si stabilizzava un po' ma guardate che sopravvivenza oggi è qui oh scusate sono andata troppo avanti no eccola qua oggi è qua la probabilità di sopravvivere in questa fase di vita è molto vicina a uno quindi vuol dire che la probabilità di morte in effetti si è praticamente azzerata questa curva di sopravvivenza si sta spostando a destra vuol dire che la gente si chiama rettangolarizzazione di rettangoli non c'è niente qui invece e neanche qua qui invece la curva fa così e tende a spostarsi in là poi a un certo punto siccome non abbiamo ancora scoperto neanche quelli che lo desiderano maggiormente scoperto la formula per la vita eterna a un certo punto possiamo anche spostarla in là ma insomma dopo i 105 110 si muore tutti moriamo ecco e questo è una bella sfida per un sistema pensionistico e lo vediamo qui guardate la popolazione italiana nel 71 la popolazione italiana no scusate qui ho detto la popolazione italiana nel 71 sì questa è la popolazione italiana nel 2011 tutte queste cose qui ci sono le donne e qui gli uomini queste classi di età sono le classi di età chiamate baby boomers sono quelle classi di età numerose nati più o meno alla fine della seconda guerra mondiale quando gli italiani avevano fiducia nel futuro voglia di ricostruire aspettative sono nati tanti bambini adesso vanno tutti in pensione chiaramente e sono classi numerose vedete che il vertice si alza anche rispetto a prima e guardate come sarà questa si chiama piramide invertita adesso nel 2061 voi direte come facciamo a saperlo beh le previsioni demografiche sono molto più solide delle previsioni degli economisti che fanno fatica a prevedere anche quello che succederà l'anno prossimo ma le variabili demografiche muovono in maniera lenta però muovono e quindi questo è a meno di altre pandemie per carità la pandemia sta cambiando anche i fatti demografici però questo vedete implica un forte aumento delle classi di età anziane rispetto alle classi giovanili e questo non è un problema che si possa risolvere con politiche di welfare mirate al breve periodo mirate al consenso elettorale aggiungo qui lo vediamo che noi ricordatevi la figura del porcellino queste sono le classi di età più giovani fin qua ok allora se queste classi di età sono meno numerose rispetto a prima e devono per di più anche fronteggiare una crisi economica e quindi non lavorano o lavorano in maniera inadeguata precaria con un basso reddito allora è chiaro che pagare le pensioni di queste classi anziane numerose diventa un problema quindi c'è un rischio demografico e c'è un rischio economico qui guardiamo solo la figura che lui l'anziano dice sai che stai pagando la mia pensione quindi datti da fare e lui dice ma lo sai che io sono disoccupato quindi non conta solo il rapporto tra il numero degli anziani e il numero dei giovani conta anche il fatto che questo sia questo giovane sia occupato e qui richiamo soltanto un problema che è molto italiano molto preoccupante che è il problema di questi giovani NEET che sono che non lavorano sono giovani nella classe di età qualcuno li calcola fino ai 34 anni sono giovani che non non lavorano not in employment education training non lavorano non seguono percorsi educativi e neanche training professionale e voi direte cosa fanno? Eh ma sapere cosa fanno spesso vivono della pensione della nonna e guardate che questo sono noi ne abbiamo il numero più alto in Europa ed è una tragedia della quale si parla troppo poco e sono circa due milioni e mezzo di giovani che si trovano in queste condizioni ed è ripeto una tragedia qui vedete quando parliamo di problemi demografici prima ma vi ho detto c'è anche il rischio economico se noi abbiamo una crescita bassa questa è l'Italia questa è la Spagna questo è Regno Unito tutti partiamo qua dal 1990 qualcosa non vedo adesso e poi quanto siamo cresciuti? noi siamo cresciuti meno degli altri e ve lo dico in maniera sintetica ma se non si cresce il lavoro è poco e allora si pensa di redistribuirlo anziché di crearlo crescita e lavoro sono legati senza crescita è difficile fare lavoro e poi c'è il rischio politico vi ho detto demografia economia quindi paradossalmente io dovrei dire che il migliore modo per far funzionare il sistema pensionistico è avere un'economia che cresce e un tasso di occupazione elevato particolarmente dei giovani e non disoccupati o persone che stanno fuori e il rischio politico lo faccio solo in brevissimo il rischio politico è quello di politici che guardano solo che non guardano ai prossimi 50 anni ma guardano al prossimo semestre e cioè alle prossime elezioni allora siccome nelle prossime elezioni i giovani votano poco o comunque non votano e quelli di domani non ci sono proprio le promesse sono piuttosto fatte a favore delle persone mature e anziane piuttosto che ai giovani e quindi e i politici non amano molto la trasparenza perché se non c'è trasparenza riescono a nascondere qualche favore a qualcuno se invece la formula è molto trasparente è più difficile quindi c'è anche il rischio politico il rischio politico vi faccio vedere questa l'età di pensionamento una politica di corto raggio l'età di pensionamento dal 70 al 2015 guardate quando già l'Europa stava dicendo a molti paesi a molti l'Italia è questa azzurra stava dicendo a molti paesi che bisognava riformare i sistemi pensionistici beh l'Italia faceva scendere l'età di pensionamento e ancora oggi l'età di pensionamento da noi è più bassa che non altrove nonostante tutte le riforme perché ci sono molte strade di accesso a pensionamenti anticipati allora chi garantisce i giovani e i giovani l'ho detto prima si garantiscono devo prendere questo giovane qua vedete che sbadiglia lo prendo come rappresentativo di tutti i giovani che sono lì magari perché adesso dicono ho parlato abbastanza dovrebbe smetterla vedete no lo vedete questo qui che sbadiglia spero che voi non sbadigliate ma in ogni caso la domanda è chi garantisce i giovani la risposta è quella che vi ho dato prima il mercato del lavoro la scuola l'istruzione questi sono investimenti nei giovani non le promesse di una pensione futura che i giovani di oggi vedono lontanissima e per fortuna perché poi i giovani hanno voglia di impegnarsi almeno magari non tutti ma hanno voglia di impegnarsi e quindi è su di loro che bisogna costruire le buone pensioni investendo in questo capitale umano vi faccio solo vedere la cosa di cui ho parlato prima l'illusione del numero fisso di posti di lavoro qui è solo vedete sono diversi paesi cosa dimostra questo grafico qui abbiamo il tasso il cambiamento nell'occupazione degli anziani e invece sull'orizzontale abbiamo la variazione del tasso di occupazione dei giovani vedete una cosa che le due variabili vanno insieme questo grafico ci dice una cosa molto semplice là dove lavorano gli anziani di più c'è anche lavoro per i giovani siamo noi perché in Germania il tasso di occupazione dei giovani di disoccupazione dei giovani è più o meno simile a quello della popolazione generale siamo noi e i paesi mediterranei ad avere un problema specifico di occupazione giovanile proprio perché perché non facciamo le politiche sui giovani ma perché facciamo le politiche un po' più ahimè no ahimè andrebbero fatte tutte e due ma non possiamo pensare solo alla parte della popolazione che sta diventando più numerosa ed è anche quella politicamente più impegnata qui vi dico solo questo della Banca d'Italia che dice a proposito della riforma e del numero secondo nostre analisi non vi è evidenza di un esso negativo neppure nel breve periodo tra il prolungamento della vita lavorativa degli anziani e l'occupazione dei giovani piuttosto i due fenomeni appaiono complementari vanno nella stessa direzione e poi dice questo guardando alla sola riforma Fornero e si ha comportato nel breve periodo un incremento dell'occupazione di quattro decimi oltre i cinquantacinque anni e di circa un decimo tra i più giovani e questo è la negazione poi per carità uno mette in dubbio tutto oggi si trova in questo paper scientifico che è appena stato pubblicato e che è un pezzo di ricerca importante allora penso che adesso avevo due parole sulle riforme vedete che sono tante tutte queste riforme Amato è stata una riforma molto severa in presenza di una crisi finanziaria Dini è stata la riforma più innovativa ma anche troppo lenta per cui c'erano le battute abbiamo il migliore sistema pensionistico peccato che andrà in vigore nel 2030 e c'erano le riforme bellissimo progetto di una nuova casa la faremo quando avremo non so la faremo tra qualche decennio ecco la riforma come l'Italia era rappresentata era un precipizio di crisi finanziaria erano tutti questi diciamo richiami alla grande malata del mondo che in quel momento era l'Italia quindi quindi non è che uno sceglie i momenti in cui fare le riforme riformare le pensioni è socialmente molto molto difficile e se mi date ancora pochi minuti l'unica cosa che voglio farvi ancora vedere è questo questo grafico perché noi pensiamo sempre alle riforme come tagli e basta e voi sapete che in particolare le riforme del governo tecnico furono interpretate come austerità dei cattivi dei senza cuore eccetera eccetera però le riforme sono investimenti sociali allora io vi ho parlato prima di due criteri l'adeguatezza per il sistema pensionistico uno è qua sull'asse piatto e l'altra è qui sull'asse verticale la sostenibilità è qua e l'adeguatezza o chiamiamola generosità è qua allora voi avete uno scambio vuoi essere tanto generoso sei qua se sei molto generoso e prometti a tutti di andare in pensione a 40 anni con 20 anni di contributi più o meno la tua sostenibilità è vicina allo zero e quindi se invece vuoi molta sostenibilità sei più severo dice ciascuno la pensione se la deve pagare ok allora se noi interpretiamo le riforme solo come muoversi lungo questa curva uno può immaginare di essere qui con questa sostenibilità e questa generosità e dire ma abbiamo dei problemi tutti gli analisti ci dicono che non teniamo rispetto alla variazione della popolazione dobbiamo spostarci per esempio muoverci da questo punto rosso in alto a sinistra qui tagliamo e abbiamo no scusate dobbiamo spostarci qua cioè no no giusto scusatemi ma non vedevo la cosa dobbiamo ridurre l'adeguatezza non riesco a vedere sotto perché c'è dobbiamo aumentare l'adeguatezza quindi qui dobbiamo ridurre l'adeguatezza e aumentare la sostenibilità quindi ci spostiamo in questa dimensione ma le riforme non sono solo questo le riforme sono e tutti gli economisti lo sanno spostare questa linea in alto cioè introdurre una degli elementi di riforma per cui la stessa sostenibilità è compatibile con una maggiore adeguatezza oppure una stessa adeguatezza è molto più sostenibile è un trucco no vuol dire che per esempio non incoraggi le persone a uscire il più presto possibile ma le incoraggi invece a restare gli dici guardate che se voi state due anni di più la vostra non vi togliamo qualcosa vi diamo qualcosa di più la vostra pensione aumenta per fare in modo da recuperare non solo i contributi che avete versato in più ma anche il fatto che andando in pensione due anni dopo tre anni dopo voi rinunciate alla pensione per tre anni e l'Inps quindi non deve pagare queste sono le cose che fanno che migliorano questo questo scambio tra adeguatezza e sostenibilità però capite che spiegare queste cose è molto difficile e quindi la popolazione giustamente anche qualche volta magari attraverso una informazione molto negativa perché noi abbiamo sempre informazioni negative dice non intende questo movimento e quindi intende soltanto che c'è una riduzione della generosità per magari per far contenti i banchieri tedeschi il che ovviamente è un pessimo messaggio e dire che la nostra riforma è stata fatta per mettere in sicurezza le banche tedesche era un pessimo messaggio perché le riforme noi le dobbiamo a noi stessi chiudo avrei altre cose ma vi ho detto che ecco che tornerò la resilienza vi ho detto prima che il il nuovo piano PNRR piano di ripresa che non è solo crescita economica ma è ripresa di valori anche civili non solo di crescita economica e resilienza resilienza vuol dire temprare la società gli individui della società e come si temprano gli individui con strumenti pubblici che non sono però soltanto sussidi ma sono cominciamo dall'istruzione e dall'educazione smettiamola con la storia che la competenza non ha valore e che l'io vale io no ciascuno deve impegnarsi studiare formarsi e chi si forma per fare l'ingegnere magari non sa fare il medico però è importante avere ingegneri e medici e riconoscere che la competenza è un valore per la società e poi la scuola e poi l'occupazione con tutti i suoi rischi e poi le pensioni quindi ci sono bisogna guardare a qualcosa che rende la società più temprata rispetto alle situazioni negative anche con un welfare che guarda non soltanto alla parte finale ma a tutto il percorso di vita perché il percorso di vita che è accidentato da tanti rischi che spesso non sono guardati o non sono considerati a livello di welfare collettivo io mi fermo qua so che sono andata oltre il mio tempo vi chiedo scusa chiedo scusa in particolare a tutti i giovani spero di non averli annoiati e niente sono qui per rispondere alle vostre domande con semplicemente un'ottesione quindi per ringraziare a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento a partire dal professor Ricciuti e dal professor Fiorentini e poi per l'Accademia Olimpica è un piacere perché è un evento che rientra nella logica della scuola dove si cerca di mettere assieme competenze relazioni da parte di accademici esperti e rapporti con il territorio soprattutto tutto questo in un'ottica di trattare temi che siano di rilevanza e vicini agli studenti come spiego anche quando insegno il corso di scelta delle finanze gli studenti percepiscono le pensioni come qualcosa le riforme delle pensioni come qualcosa lontano tra virgolette insomma da matusa no? si potrebbe pensare in realtà come ha anche illustrato il professor Storniere è solo comprendere al meglio la logica sottostante le riforme delle pensioni è fondamentale per tutte le generazioni in particolare per i giovani e in questo caso soprattutto perché rappresenta un territorio dove le scelte fatte oggi in realtà possono avere le ripercussioni anche oggi abbiamo visto due tipologie di riforme ma nanno le ripercussioni invece a lungo termine anche per il futuro e quindi chi effettua le scelte oggi dal punto di vista politico ne beneficia dei meriti e sostiene i costi ma saranno poi come ha chiarito la professoressa Fornero le generazioni future che invece a fronte di scelte sbagliate non ogginilanti finiranno per probabilmente sostenere degli oneri e quindi è in questo contesto che è importante conoscere sapere sapere fare i calcoli giusti questo è un altro aspetto avere una visione etica e quindi comprendere le relazioni intergenerazionali per valutare diciamo pro e contro in questi contesti ma anche conoscere esattamente i calcoli giusti quelle formule che la professoressa ha diciamo lasciato dal punto di vista didattico da parte per il tempo limitato in realtà ci spiegavano che quali erano i calcoli giusti che è passato tra virgolette per opportunità politiche non sempre sono stati fatti quindi volevo ringraziare quindi la professoressa e a questo punto penso che sia il caso di lasciare invece spazio ai giovani ai ragazzi alle ragazze e ai ragazzi se hanno dei quesiti o dei commenti relativamente alla presentazione grazie grazie professoressa grazie a voi grazie c'è una domanda ha alzato la mano a Nicolic alla quale do la parola buongiorno buongiorno sono un po' agitata perché sono consapevoli di parlare con dei grandi allora professoressa volevo ringraziarla molto per la sua il suo intervento e la sua testimonianza io vorrei chiederle vorrei capire il suo punto di vista riguardo ad alcune tematiche allora noi giovani siamo almeno alcuni in parte siamo consapevoli dell'invecchiamento della popolazione che sta avvenendo oggi in Italia e siamo anche consapevoli che magari l'ingresso nel mondo del lavoro è sempre più dilazionato magari attraverso per diversi motivi tra cui anche la richiesta di esperienza per diversi anni eccetera quindi almeno da quello che percepisco io mi pare che non nel medio periodo ma magari nel periodo più lungo questo carico fiscale relativo alla previdenza sociale sarà molto elevato sulla mia generazione sui miei coetanei volevo chiederle se lei era a conoscenza o se è a conoscenza di qualcuno che si occupa di tematiche relative per esempio ad azioni concrete che potrebbero evitare la pesantezza di questo carico fiscale sui più giovani e come in questo modo ripristinare un attimo la fiducia nel sistema pensionistico italiano futuro grazie grazie se non sbaglio Anna ecco allora la domanda è molto vasta alla domanda si deve rispondere che le riforme hanno esattamente quel obiettivo la prima cosa che si fa quando c'è un aumento della proiezione di spesa prima vi ho fatto vedere che lo Stato italiano spende ancora spende di più sulla spesa sociale e oggi sulle pensioni noi siamo saliti perché è diminuito il PIL ma 16,5% del PIL grosso modo allora è una spesa ancora molto elevata la cosa che si fa non è di tagliare le pensioni ma è di aumentare l'età di pensionamento cioè di chiedere anche esattamente questo l'aumento dell'età di pensionamento è esattamente la risposta alla questione dell'onere perché se si aumenta l'età di pensionamento si riduce un po' il rapporto tra le persone pensionate il numero dei pensionati e il numero delle persone in età attiva che dovrebbero lavorare e non sempre lavorano allora se tu anziché avere per esempio perché hai un'età di pensionamento abbastanza bassa supponiamo 60 62 anni hai 70% di pensioni numero di pensioni sulle persone attive aumenti l'età di pensionamento vuol dire che alcune persone che starebbero su al numeratore come pensionati stanno sotto come attivi quindi aumenti il numero degli attivi di coloro che su cui si versano che versano i contributi per pagare le pensioni quindi la prima cosa è l'aumento dell'età pensionabile la seconda è aumentare la relazione migliorare la relazione se lei va dalle generali e compra una pensione privata un prodotto pensionistico individuale ok non dice alle generali perché tanto sarebbe inutile senta io le verso complessivamente 100 e lei me ne restituisce però 150 perché le generali dicono guardi lei versa 100 e io in valore atteso qui c'è di mezzo tutta la mortalità ma non stiamo a complicare e io le restituisco quello che lei mi ha dato più il rendimento delle attività dove abbiamo impiegato nelle quali abbiamo impiegato i suoi risparmi ecco al sistema pubblico noi chiediamo invece una cosa diversa diciamo se io ti do 100 per favore mi daresti indietro 120 130 questa differenza chi la paga? le generazioni future infatti qui c'è un concetto che era stato introdotto dal mio maestro di debito pensionistico perché attraverso la tendenza della classe politica a farsi belli agli occhi degli elettori c'è la tendenza a promettere più di quanto l'insieme dei contributi non sorregga allora io voglio rendere più chiaro forse anche scusatemi magari drammatizzandolo ma pensate a una generazione che appunto dobbiamo evitare che sia la generazione dei giovani di oggi dobbiamo evitarlo in tutti i modi anche pensando alla questione della DAD una generazione che è sfortunata allora sì tu puoi anche promettere che ci saranno buone pensioni ma se uno è sfortunato sul lavoro tutta la vita chi è che alla fine pagherà se non sempre un aumento del debito che pagherà le pensioni allora questo vuol dire che ritardare l'età di pensionamento fare ogni sforzo perché più persone siano occupate e non la logica del dividere quel po' di lavoro che c'è no cambiare mentalità dobbiamo cercare di creare lavoro la ripresa deve servire a creare lavoro per i giovani per le donne perché è da questo che viene la base per la pensione è quella lì e se il lavoro è un lavoro diciamo se i nostri giovani sono più istruiti beh il lavoro mi dispiace ma lo trovano prima è vero che molti sono costretti ad andare all'estero però le statistiche ci dicono che anche in questi mezzo milione di posti di lavoro che sono stati persi l'anno scorso intanto la quasi totalità sono donne e purtroppo sono più colpiti i lavoratori meno istruiti è una constatazione amara ma è così ma non è che i lavoratori disoccupati noi li aiutiamo con il sussidio l'Aspi l'ho inventata io poi è stata chiamata Naspi perché tutto in Italia deve essere sempre nuovo non si costruisce mai su qualcosa che è già stato innestato pazienza ma in ogni caso la Naspi l'ho detto prima era assicurazione sociale per l'impiego vuol dire io devo fare tutto perché i giovani trovino un lavoro le donne trovino un'occupazione quindi è su queste cose che bisogna agire noi avete visto il grafico che vi ho fatto vedere l'Italia è il paese che negli ultimi 25 anni tra i paesi europei con cui ci confrontiamo ma anche molti altri dell'Ocse è cresciuta meno e se non si produce ricchezza torniamo sempre alle logiche della redistribuzione che è importante ma sono logiche che valgono là dove l'assicurazione sociale non è riuscita a prevenire il manifestarsi di eventi negativi è questo che è così e quindi guardi io ho anche equiparato l'età di pensionamento delle donne a quella degli uomini e anche qui mi sono state date così tante fatte così tante critiche tenete conto che le donne hanno una vita attesa più lunga quindi la mia opinione è questa e la dico a lei che è una giovane donna io voglio la parità quello che si dice il livellamento del terreno di gioco io voglio che facciate giocare anche me anche lei su un terreno livellato non che a lei perché giovane donna diano un terreno tutto scosceso con delle buche e poi dopo le daranno qualche contentino la fanno partecipare a qualche manifestazione no voi noi dobbiamo volere che il terreno di gioco sia livellato sul lavoro e poi allora non vogliamo la compensazione della pensione anticipata che tra l'altro è una bella scusa per non fare i servizi per l'infanzia e i servizi per la cura perché si dice tanto ci sono le donne in Italia che fanno i servizi per l'infanzia e per le cure e quindi le si manda in pensione prima fra l'altro anche questo è stato dimostrato dalla ricerca ricerca accademica voglio dire che se dai la promessa del pensionamento anticipato questo retroagisce sulle motivazioni di carriera se io ho la prospettiva di andare in pensione presto penso a quell'obiettivo lì non tanto a impegnarmi per migliorare per salire magari per sfondare quel tetto di cristallo contro cui le donne sbattono quindi vede che ci sono tante cose che servono e poi aggiungo una formazione permanente perché noi non possiamo pensare oggi la mia generazione poteva pensare una vita di lavoro continuativa è anche lunga professori universitari non vogliono mai andare in pensione ma lunga non interrotta la vita di lavoro dei giovani di oggi sarà molto diversa e non si può pensare di acquisire competenze fino a vent'anni poi lavorare e poi andare in pensione a 65 con quelle stesse competenze no e adesso avete la sfida abbiamo abbiamo la sfida della digitalizzazione ma noi dobbiamo pensare soprattutto a fare occupazione occupazione per i lavoratori non più giovani invece di mandarli in pensione appena possibile occupazione per le donne e occupazione per i giovani questo deve essere il primo obiettivo della politica e del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza grazie abbiamo un'altra domanda do la parola all'iPhone di Jacopo grazie grazie mille professoressa anche io la ringrazio per il suo intervento è assolutamente lucido e ha dato anche diversi spunti di riflessione soprattutto per noi giovani due domande la prima chiaramente diceva no faceva riferimento prima alla poca lucidità che spesso la politica italiana ha avuto nel progettare il sistema pensionistico ma in generale nel fare le riforme e come anche le stesse riforme spesso vengono interpretate come dei meri tagli quando in realtà sono degli approcci politici a 360 gradi e ben più dettagliati allora vista anche la chiave comparatistica con cui ha affrontato il tema delle pensioni ad esempio pensando alla Germania è un problema tipicamente italiano quello della poca franchezza politica e della poca lucidità dei nostri politici nell'affrontare questi temi o ha constatato queste difficoltà generalmente anche in Europa e se sì quindi se c'è questo problema tipicamente italiano un difetto congenito politico del nostro paese solo i governi tecnici possono essere la soluzione per avviare delle riforme lucide che parlino con franchezza alle popolazioni giovanili del nostro paese o possono essere anche dei governi politici in questo senso io ho sempre ritenuto che è quasi impossibile trovare una poca politicità all'interno dei governi tecnici qualsiasi governo anche se formato da tecnici o anche da economisti ha una visione politica di fondo di conseguenza su questa seconda domanda cioè se solo i governi tecnici possono essere la via d'accesso a queste riforme le chiedo anche se un governo può propriamente chiamarsi tecnico e se non ha comunque una connotazione politica di base grazie grazie è una bella domanda dunque tutti i paesi hanno come dire i loro problemi però noi siamo l'unico paese tra i paesi fondatori dell'Europa ad aver avuto un governo veramente populista parlo del governo giallo verde caratterizzato da una come dire scarsa competenza lo dico senza voler offendere nessuno ma insomma questo era direi abbastanza chiaro e da invece abbondanza di promesse ma anche di illusioni perché di nuovo io credo che molti dei 5 stelle abbiano fatto un percorso di apprendimento e quindi sono molto diversi da quando sono entrati al governo e da quando ingenuamente non voglio dire scioccamente ma molto ingenuamente pensavano che bastasse aver approvato un decreto per avere risolto un problema noi siamo pieni di decreti di leggi approvate che non sono messe in pratica non sono implementate come si dice perché sono bypassate oppure perché sono cancellate da altre leggi di segno contrario e così via quindi ecco però torniamo all'inizio è vero che noi siamo stati l'unico paese ed è vero che siamo arrivati lì a seguito di quello che per me è una lunga crisi della politica e di chi la politica deve fare cioè i partiti perché noi abbiamo avuto 25 anni di contrapposizione più o meno molto dura in cui i partiti prima della della crisi del 2008 e poi dell'avvento del governo tecnico dei governi populisti perché era una crisi evidente quasi nella personalizzazione della politica da un lato l'esaltazione di Berlusconi dall'altra invece la contestazione a Berlusconi in tutte le cose che faceva non c'era legittimazione e non c'era soprattutto chi alzasse lo sguardo e dicesse beh io voglio parlare di paese non mi importa fare le dieci venti domande a questo o quell'altro perché voglio colpevolizzare io voglio parlare di paese e purtroppo questo l'abbiamo visto anche in questi giorni perché la crisi di un partito come il partito democratico a cui io chiedo la visione politica molto più che ad altri partiti e purtroppo in questi anni l'ha un po' persa nei momenti difficili una politica debole si risvolge a qualcun altro ma siccome è debole questa politica poi c'è anche molto la tentazione di dire questi questi altri che vengono nei momenti difficili ah naturalmente sono i tecnici hanno sbagliato tutto cioè e questa per me è stata l'esperienza personale io anche per mia natura e per mia professione io sono stata sempre insegnante quindi ho sempre capito l'importanza di cercare di spiegare non in maniera certo se devo spiegarvi dei modelli economici vi spiego dei modelli economici e non facciamo la politica dei modelli economici possiamo anche dire cosa c'è dietro ma se devo spiegarvi un modello cerco di usar la matematica però la politica deve dare un senso di direzione quando vengono chiamati i tecnici è per risolvere qualcosa noi fumo chiamati per risolvere la crisi finanziaria per allontanare la crisi finanziaria e io le avrei spiegate o avrei cercato di dialogare con le persone di dialogare per la riforma delle pensioni la riforma del lavoro che è stata secondo me su quale abbiamo lavorato tanto e secondo me aveva alcune proprio buone sono rimaste sono rimaste per esempio la riforma del processo del lavoro l'Aspi è rimasto però per esempio quel fatto che io volevo rendere meno precario l'ingresso e meno rigido l'uscita perché gli economisti sono convinti che se blocchi qualcuno dentro gli altri non entrano più e quindi questa era la filosofia però mi sono subito saltate agli occhi quando per esempio ho fatto delle misure di contrasto alle false partite IVA alle collaborazioni coordinate continuative ah no perché lei così riduce la flessibilità del lavoro mentre invece quello che avevo fatto sull'articolo 18 da una parte era considerato troppo anticostituzionale dall'altra troppo poco perché avrei dovuto cancellarlo in via permanente quindi è vero che anche i tecnici fanno delle scelte politiche e le scelte politiche vanno condivise vanno argomentate si deve fare dialogo quando non hai il tempo e devi agire perché sei sull'orlo di un burrone non hai molto tempo per il dialogo ma dopo secondo me spiegare alle persone perché questa è la mia esperienza in tutti i casi quando io vado a parlare con dei circoli prima ci andavo in presenza adesso lo faccio online bene le persone capiscono e poi c'è un altro elemento che io trovo quindi io sono per i governi politici la politica è responsabilità di scelte per la società e quindi è questo che deve essere i tecnici qualche volta sono invece foglie di fico per la mancanza di coraggio della politica e la mancanza la visione di cortoraggio perché c'è sempre un'elezione e loro tendenzialmente pensano sempre soltanto alla prossima elezione c'è un altro elemento su cui io mi sto molto impegnando che è quella che io chiamo educazione economico finanziaria di base si fanno le riforme non per compiacere la Germania ma come vi facevo vedere prima per ottenere una soluzione migliore per il paese anche se magari richiede qualche tempo perché il lavoro non si crea con un decreto la dignità al lavoro non la si dà per decreto ci vuole sostanza dietro ebbene se le persone non hanno gli elementi per comprendere questo e si fanno magari ingannare da una comunicazione parlo anche dei media più accreditati che quanto a creare polemiche spesso non sono da meno ma poi c'è tutto quel pessimo mondo dei media dei social dove sembra emergere il peggio di ciascuno di noi e le voci di buon senso le voci un po' lungimiranti hanno pochissimo spazio e allora se le persone che non conoscono e non è che tutti sono obbligate a conoscere anche se io ritengo ci voglia molta un po' di educazione economico finanziaria di base per tutti e se le persone non comprendono e sono dominati da questa informazione distorta è chiaro che poi possono pensare che appunto sia colpa della signora Merkel o che Fornero abbia fatto questo per salvare le banche tedesche mentre non è così quello che abbiamo fatto abbiamo fatto e io posso assicurare voi che siete giovani Jacopo posso assicurarvi che non c'è stato un solo giorno del mio periodo da ministro in cui io non mi sono domandata se quello che stavo facendo fosse il modo giusto di interpretare i problemi del paese non è mica diciamo una cosa da eroi questa è che tu sei una persona indipendente chiamata a interpretare i bisogni del paese ma guardando a lungo periodo io non avevo elezioni a cui guardare perché se ho capito una cosa è che io in politica permanentemente non ci volevo restare grazie allora abbiamo due domande nella chat io le leggerei e diamo una risposta a queste domande dopodiché credo che potremmo chiudere la nostra il nostro incontro la prima domanda è forse un classico del mondo delle pensioni delle riforme delle pensioni lo studente Paolo Tressi chiede cosa ne pensa della riforma del sistema pensionistico cileno che stiamo parlando di una riforma di diversi anni fa decenni fa a questo punto che appunto è un classico dei dibattiti sulle pensioni do anche la seconda domanda magari visto che ci siamo di Matteo Sanna che ringrazia la ringrazia per l'intervento e ha detto che ha letto recentemente su un capitolo all'interno del libro un capitolo sulle pensioni e vorrebbe un commento su una frase su una proposta che ha letto che l'ha interessato riguardo a una possibile soluzione che sarebbe quella di consentire a chi fa più figli di poter andare in pensione prima questo si creerebbe maggiori spese ma potrebbe anche portare a una maggiore popolazione giovane futura nel mondo del lavoro non so dove la fonte di questa proposta personalmente non la conosco ma allora la prima domanda la riforma cilena la riforma cilena ricordiamoci che fu fatta ai tempi della giunta militare negli anni 70 fine anni 70 e forse anche inizio anni 80 comunque allora c'era una giunta militare quindi non era una democrazia si trattava di cambiare il volto dell'economia e la giunta si rivolse ad alcuni economisti in particolare agli economisti della scuola di Chicago un po' più diciamo un po' più basati sulla logica del mercato meno meno regolato possibile e quindi ci furono grandi programmi di privatizzazione compresa la privatizzazione della previdenza pubblica perché la previdenza pubblica era in gravi difficoltà per le ragioni che abbiamo anche visto prima sinteticamente troppe promesse troppo lavoro nero pochi contributi e quindi non era sostenibile e quindi fu privatizzata allora le privatizzazioni e le riforme di mercato e la privatizzazione per un po' sembrarono la ricetta giusta e quindi la riforma cilena sembrò indicare una strada perché le persone si vedevano accumulare vedevano accumulare i loro risparmi con rendimenti molto alti i quali però erano legati proprio a tutto il cambiamento del sistema economico poi successero due cose uno la gente si spostava da un fondo pensione a un altro perché lì erano fondi pensione private senza considerare le spese e quindi molte persone poi si accorsero che le spese erano molto alte e si mangiavano una buona parte dei rendimenti quindi quei rendimenti servivano molto a aumentare i profitti dei fondi e degli operatori di mercato ma non aumentare molto le pensioni e per di più i rendimenti a un certo punto cominciarono a decrescere quindi se mettiamo insieme le due cose e poi c'è stata la crisi finanziaria ce n'è stata una prima e poi quella del 2008 morale il Cile ha fatto marcia indietro e quindi ha ripubblicizzato i suoi fondi pensione quindi siamo tornati a un sistema che è largamente pubblico anche se i fondi pensione hanno un carattere integrativo quindi in sintesi io penso che la previdenza debba avere un forte pilastro pubblico deve averlo dopodiché ci possono essere i fondi pensione integrativi io sono d'accordo che non siano obbligatori perché dove c'è rischio poi ci vuole una garanzia se il mercato non te la dà e se il mercato ti dà una garanzia te la fa pagare però se la garanzia ti viene data dallo Stato allora finiscono per essere pubblici anche quelli che sembrano privati morale io sono dell'idea che bisogna avere la previdenza pubblica ben disegnata sostenibile trasparente e che aiuta chi è in difficoltà con la tassazione mentre alla generalità delle persone che lavorano dà pensioni contributive questa è la mia idea e i fondi pensione sono invece detassati noi fra l'altro per noi quella è una proposta che non ha nessunissima possibilità neanche di essere discussa in modo operativo perché noi non possiamo adesso tornare indietro dal sistema pubblico ripartizione perché vi ho fatto vedere è un contratto tra generazioni allora se noi oggi volessimo tornare indietro i CAI sono due o si dice cari giovani anziché pagare mettere i vostri contributi nel sistema pubblico voi mettete i contributi in un vostro conto privato e chi è che paga le pensioni degli attuali anziani o la tassazione quindi oppure o cancelliamo le pensioni ma come vivono i pensionati e lasciamo che i giovani paghino una sola volta se no se non cancelliamo le pensioni i giovani devono comunque pagare due volte perché devono pagare per la loro pensione e poi attraverso la tassazione pagare per le pensioni non si esce di lì la ripartizione bisogna metterla nel modo giusto noi avevamo fatto insieme al professor Castellino allora nel 2001 una bella proposta che diceva questo facciamo una una riforma di questo tipo cancelliamo le pensioni di anzianità e diamo ai giovani soltanto a loro la possibilità di portare si chiama opting out di portare fino a massimo di 5 punti dell'aliquota contributiva che è 33 quindi lasciamo fino a un massimo di 5 punti di portarli in un fondo pensione quindi rimangono dentro il sistema pubblico in maniera importante perché hanno comunque sempre 25 20 20 no hanno sempre 28 per cento di contribuzione e intanto si fanno un fondo pensione integrativo noi avevamo calcolato che se fossimo intervenuti in maniera importante sulle pensioni di anzianità quello avrebbe compensato il costo per il pilastro pubblico dell'opting out dei giovani e quindi i giovani oggi avrebbero comunque un po' di ricchezza accumulata nei fondi pensione ma ovviamente non fu scelta questa strada ma è l'unico modo cioè quello di farlo sulle generazioni giovani per pochissimi punti dell'aliquota altrimenti non se ne parla e oggi è sempre più difficile anche perché oggi comunque i rendimenti sono così bassi sono bassi i tassi di crescita dell'economia sono bassi i rendimenti quindi costruirsi una buona pensione lo si fa solo attraverso il lavoro e quindi mettere da parte contributi o risparmio col lavoro questa è la la prima domanda la seconda questa è una proposta che è stata fatta in Germania in particolare dall'economista Herbert Zinn dice tassiamo i giovani no tassiamo quelli che non fanno figli siccome il sistema pensionistico è un contratto tra generazioni se tu non fai figli non stai pensando alla mia pensione alla pensione di domani magari dei miei figli i quali non avranno qualcuno che paga loro le pensioni perché la popolazione si riduce allora io non trovo che sia una proposta diciamo così surreale no però io sono favorevole che si faccia una politica che aiuti le famiglie in modo diretto e non indiretto attraverso una maggiore tassazione per aiutare le pensioni noi dobbiamo tassare le persone in modo da avere disponibilità di asilo in nido per tutti in modo da avere la possibilità che le donne tutte lavorino senza doversi dimettere al primo o al secondo figlio queste sono le politiche che possono aiutare la nascita di figli solo dire non fai figli e ti tasso è difficile che induca qualcuno ad avere un figlio non lo considero sconvolgente come proposta ma ripeto io sono molto più favorevole a una politica che anziché trascurare la famiglia come è stato fatto negli ultimi decenni allora tra l'altro voglio dire perché visto che sono sempre criticata che il allora il congedo di paternità fu introdotto pur con tutte le ristrettezze che derivavano dalla situazione finanziaria oggi le risorse finanziarie ci sono allora a me dicevano sempre devi risparmiare bisogna tagliare spese e quindi comunque io introdussi il congedo di paternità obbligatorio anche per gli uomini adesso è stato allungato e va molto bene bisogna cercare di recuperare sul lavoro femminile e fare in modo che il lavoro femminile non sia incompatibile con l'avere figli che è una cosa grandissima e non credo sarebbe corretto da una proposta di questo tipo quindi la metterei se dovessi scegliere non tra le priorità ma non considero che sia una cosa così negativa quindi io a questo punto ringrazio nuovamente la professoressa Fornero per la disponibilità e per la passione con cui ha fatto questa lezione io ho sempre apprezzato tra le varie cose oltre che la studiosa la passione con la quale difende le sue scelte politico-economiche quello che ha fatto quello che vorrebbe fare che vorrebbe voluto fare che non ha potuto fare questo è un aspetto che ho sempre molto ammirato devo dire personalmente e che oggi si è visto in maniera fortissima e di questo ulteriormente la ringrazio e ringrazio quindi ancora tutti gli ospiti quelli istituzionali ma soprattutto gli studenti che sono stati presenti in maniera molto numerosa abbiamo avuto anche 300 persone a un certo punto grazie molti a voi auguri a tutti auguri a tutti e speriamo di vederci a Verona con piacere arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti